Questo è un quartiere di Atene con dei murales incredibili realizzati su pietra antica in un luogo praticamente quasi disabitato eppure vivo reso vivo da queste immagini fissate su parete che non sono soltanto colore o scritte ma rappresentano tutta un'attività svolta dai ragazzi di Atene negli ultimi cinque anni un'attività che ha l'obiettivo di recuperare alcune comunità della capitale in difficoltà difficoltà di ogni tipo economiche, sociali ma anche semplicemente di disagio disagio adolescenziale disagio giovanile e i visitatori non mancano ovviamente risposte di Grazie.